Grazie per aver salvato quelle talpe, siete stati bravissimi. Ecco una batteria, vi sarà molto utile. Adesso posso tornare alla mia ricerca. Sei stato grande ragazzo, lo sapevo che avresti battuto il record. Allora ecco a te la batteria, io vado a riscuotere la mia grossa vincita. Grazie per aver guardato il video. 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 presto. Grazie per aver guardato il video. 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 dai carichiamo tutte quelle cose contemporaneamente. Ecco... Me l'evate, che ame Ecco... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.